signori guardate una tartaruga bellissima bellissima enorme guarda che stupendo uno spettacolo una caretta caretta mangia faremo proprio su tabacca bellissima mi mostro il culo per la faccia bellissima di fatti vedere meno meno per 150 kg fatti vedere no il culo è bella 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 è uscita c'era lì sulla cucchia vabbè però faccio prendere totani va bene a passeggio fatti una bella passeggiata e facci prendere totani stai tirando direttamente da santino cappotona e andrea calderone la caretta caretta a voi studio a a a a a